Gole d'emozione al Palaterme dove Gisinti, Montecatini e Roma hanno pareggiato 5-5, terz'ultima giornata del campionato di Serie A2. I ragazzi del tecnico Quattrini hanno sbagliato l'approccio alla partita, 3-0 per i capitolini ad inizio ripresa. Hanno reagito una prima volta con Mangione, hanno subito altre due reti, 5-1 sempre per gli ospiti, a metà secondo tempo. Poi si sono scatenati con Carlos Agnios, due gole in 30 secondi, e ancora con Mangione, altre due volte. Per lui si è trattato quindi di una tripletta. Pirotecnici gli ultimi 5 minuti con le due squadre in parità che hanno tentato più volte di aggiudicarsi l'intera posta in palio, fallendo alcune ghiotte opportunità anche per la bravura dei due portieri. Il concomitante successo dell'Olympus sul Prato ha però rimandato la festa a salvezza del Gisinti. Venerdì si torna in campo per la penultima giornata di stagione regolare, sempre al Palaterme, stavolta con Cefalù. L'avevamo detto già nelle interviste precedenti, che affrontavamo una squadra che si giocava tutto per tutto. L'hanno dimostrato di essere una squadra valida che non merita assolutamente quel posto in classifica. Ci ha messo sotto, ci ha messo sotto. Ha trovato dei bei gol, delle belle azioni. Sono giovani quindi hanno fiato rispetto a una squadra matura come la nostra. Ma la nostra forza nel recuperare il risultato è stata proprio questa. L'esperienza ci ha fatto sì che ricopravassimo il risultato. Anche perché per 30 minuti hanno corso, poi fisiologicamente c'è stato un caldo da parte loro e una crescita di attributi, diciamo così, perché siamo in televisione da parte dei tuoi ragazzi. Sì, verissimo. Hai fatto un'analisi giusta. Abbiamo commesso troppi errori. Non penso che sia la tensione di questa salvezza che è lì, ma non è matematica. I ragazzi ce l'hanno messa tutta anche oggi. E quindi continuiamo per la nostra strada e ci toglieremo altre soddisfazioni. Grazie a tutti.